Oh, ma la faccio il mondo, dance è il tuo, ma che cosa dipende questo? Oh, guarda, guardate voi, so che qui c'è anche un grande conciante, e guardate da... Beh, la boxe con te, a fare un'altra cosa, ha fatto parlare tutto il modo con quella... Ma come era? Come era? Ma vediamo, ve la ricordate? Ah, ci vediamo? Ah, 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 ah! Grazie. 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 . Grazie. 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 come è che c'è io? ma ti va a venire il padrone, ti metti 50 euro sono una cosa forse non starete a sentire no 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 perché stavo facendo un'improduzione ma io volevo dire una cosa che per me tu sei sempre quella ragazza là quella che non ne voleva e tu ma non è vero come non è vero e non te l'ho detto abbastanza chiaramente e questo per esempio allora lei che parla sempre d'amore ginocchio da te su un pazzo di te e allora non so se ci siamo persi l'occasione forse se tornassimo indietro ma ti ricordi te quando andavamo in bicicletta? no non in bicicletta io non l'avevo fatto vedere ma andavamo molto inziale dovevi dire bicicletta mi chiamavamo dalla tua parte ma non vi ero di famiglia grazie e ci raccontavamo in tasca di sogni e lui voleva diventare un grande cantante e ci riuscite io volevo un'altra cosa ma potremmo in bicicletta potremmo in bicicletta un po' si si non la rovinare però eh ci scambierò i nostri sogni non vi eserci io non vivo senza te e non so con il vento io non vivo senza te guida il vento è il vento è il vento e non c'è il vento è il vento è il vento io non vivo senza te e non vivo senza te mi sento fare io non vivo mi ha Grazie a tutti. Grazie a tutti.